Non ha un senso logico quello che ho appena detto Ciao a tutti ragazzi e benvenuti eppure bentornati sul mio canale Io sono Isa e oggi mi vedrete con questa facciotta distrutta Ma sono comunque qui per parlarvi di skincare Mi è capitato molto spesso di acquistare prodotti di skincare Che una volta testati mi sono resa conto non essere assolutamente adatti Alla mia tipologia di pelle o alle esigenze della mia pelle Quindi perché sono qui? Sono qui per aiutarvi a capire qual è l'esigenza della vostra pelle O le esigenze della vostra pelle E soprattutto qual è il vostro tipo di pelle Quali sono gli ingredienti da evitare Quali sono gli step da seguire in una skincare Per cercare di perfezionare la pelle Di migliorare la pelle Insomma sono qui per darvi delle linee guida grossolane Chiaro è che una pelle secca di una persona Può essere tranquillamente differente dalla pelle secca di un'altra persona Queste appunto sono linee guida molto grossolane Però può essere un ottimo inizio per approcciarsi Per approcciarsi in modo un po' più consapevole alla skincare La prima cosa da fare sicuramente è capire la nostra tipologia di pelle E in questo ci viene d'aiuto Google Perché basta googlare come capire la tipologia di pelle E vi verranno fuori decine di metodi diversi Oddio magari decine no Ma tre o quattro di sicuro ve ne vengono fuori In modo tale da capire se la vostra è una pelle secca Grassa, mista o se siete fortunati normale Una volta capito qual è la vostra tipologia di pelle È importante anche capire quali sono le esigenze della vostra pelle Ad esempio, io ho una pelle secca tendente all'acne Quindi è mio interesse non avere, perlomeno in questo periodo È mio interesse non avere brufoletti, punti neri, puntini di grasso Insomma, mi dedico principalmente alla purificazione, diciamo così, della pelle Mi dedico alle impurità, a prevenirle e ad eliminarle in questo periodo Perché poi è importante anche regolarsi in base alle esigenze della pelle In un determinato periodo di tempo Terza cosa, decisamente importantissima Regolare la propria skin care in base al periodo della giornata Cioè, di sera io non vado a mettere l'SPF E di giorno non vado a mettere un olio o una maschera notte Spero di essermi spiegata Una cosa molto importante sono anche gli ingredienti che ci sono in determinati prodotti In un siero, una crema, io non cerco mai l'alcol denaturato Proprio perché io ho una pelle molto secca E l'alcol denaturato va appunto a seccare la pelle Per una pelle grassa, magari, l'alcol denaturato può andare anche benissimo Quindi bisogna stare attenti anche a quello Una pelle secca solitamente tollera molto bene la paraffina Ovvero, comunque, la paraffina occlude i pori Quindi va bene per una pelle secca Ma non va bene per una pelle secca a tendenza acneica Così come non va bene per una pelle grassa Che può avere un maggiore eccesso di sebo Può creare più sebo di quello che già crea Perché si sente occlusa Quindi va a fare da tappo la paraffina E questi sono due ingredienti che sicuramente se possiamo evitiamoli Secondo me Così, per sicurezza Un'altra cosa importante è che Una pelle sensibile sarà sicuramente più reattiva Proprio all'alcol denaturato e alla paraffina Ma anche al profumo Molti prodotti di skin care hanno all'interno del profumo Ma è molto facile che una pelle sensibile ne risenta Ma una volta capito qual è la nostra tipologia di pelle Quali sono le esigenze della nostra pelle Come devo organizzare la mia skin care routine Come devo dividerla fra mattino e sera Quali sono i prodotti da comprare Quali sono i prodotti da utilizzare Io non sono qui per mostrarvi una lista dei prodotti che vi consiglio Sono qui per mostrarvi uno schemino In modo tale da rendere più facile l'organizzazione Poi i prodotti ognuno sceglie quelli con cui si trova meglio E purtroppo bisogna testarli Perché se su carta vanno bene Non è detto che sulla pelle poi si comportino come devono Spesso succede che se un ingrediente è formulato bene Se un siero è formulato bene E ci piacciono tutti gli ingredienti Siamo tranquilli perché non c'è profumo Non c'è alcol Non c'è paraffina Wow Solitamente la nostra pelle reagisce bene Poi ripeto va sempre in base alle esigenze della nostra pelle Che vanno in base alla tipologia della nostra pelle Ma in sostanza quindi di nuovo Perché sei qui Isa? Perché voglio aiutarvi a creare la vostra skin care routine personale Spero di potervi aiutare in questo Passiamo infine alla vera e propria skin care E ai suoi passaggi infiniti Il primo step è sicuramente la detersione Ma doppia detersione o detersione classica Dipende anche qui dalla vostra pelle Se la vostra pelle reagisce alla doppia detersione con sfoghi Allora è il caso di concentrarsi su una detersione classica Andare a struccare il volto e sciacquarlo con acqua calda Acqua tiepida scusate Mentre se la vostra pelle tollera la doppia detersione Sappiate che la prima fase è quella dello struccaggio con un detergente oleoso Mentre la seconda fase consiste nel detergere la pelle con un detergente appunto a base acquosa Il secondo step invece è il tonico Il tonico che cosa fa? Aiuta i prodotti che verranno dopo di lui a penetrare meglio nella nostra pelle Quindi è un prodotto fondamentale secondo me E il tonico è veramente vario Diciamo che è pieno di tipologie di tonici Da quello idratante a quello esfoliante Quello con vitamina C Quello con anti-aging Di ogni insomma Poi il terzo passaggio Diciamo che la skin care coreana Prevede l'essenza Io prendo ad esempio la skin care coreana Perché mi ci sto trovando da dio con questi passaggi ultimamente Quindi mi va di consigliarla anche a voi L'essenza che è purtroppo molto difficile da trovare Principalmente la rivendono esclusivamente brand coreani Su siti italiani si trovano Magari vi lascio il link qui sotto Di qualche sito che mi piace molto Dove si trovano appunto delle essenze Oppure Kills Ma l'unica essenza che ha Ha dell'alcol denaturato all'interno Quindi Mi abbiamo già parlato Ma se trovate l'essenza adatta a voi È quel qualcosa in più Che va ad idratare ancora di più la vostra pelle È una pelle idratata È una pelle sana Ricordiamoci questa cosa Poi Dopo l'essenza Cosa ci mettiamo? Il siero Il siero è il pulcro Della nostra skin care Il siero è quello che fa di più nella skin care Quindi sul siero Focalizziamoci tantissimo Focalizziamo tutte le nostre energie Sulla scelta del siero Non significa che debba essere un siero costoso Significa che deve essere un siero Che è specifico per le esigenze che noi vogliamo Per le esigenze che noi abbiamo Per le esigenze che vogliamo solo amare Per le esigenze che abbiamo Per la richiesta che noi vogliamo da quel prodotto Ad esempio io mi sto trovando benissimo Con il siero di The Ordinary Alla mia cinamide Perché? Perché mi va a pulire i pori Quindi riduce i segni dell'acne I segni lasciati dall'acne Riduce visibilmente i pori Li pulisce E quindi mi sto trovando da dio con quel prodotto E non è che costi chissà quanto Anzi 7 euro per un siero è fantastico Ma è un ottimo siero per quello che io chiedo Se invece volete qualcosa di anti-aging Allora lì si può parlare per ore di collagene Acido ialuronico Siero alla vitamina C Siero alla vitamina A Insomma Chi più ne ha più ne metta Ma l'importante è capire quello che vogliamo E poi scegliere un siero Che vada bene per quello che vogliamo Poi Contorno occhi Il contorno occhi anche qui Varia in base alla nostra tipologia Di contorno occhi Una crema contorno occhi Troppo grassa Andrà a Irritare la zona E vi farà venire dei puntini di grasso Mentre Un contorno occhi Troppo poco ricco Sarà completamente inutile Quindi cerchiamo una via di mezzo Sempre in base al nostro contorno occhi Io ho il contorno occhi super secco Oramai ve lo dico in ogni video Quindi vado a cercare una crema contorno occhi Super idratante e nel mio caso anche nutriente Perché mi mancano proprio gli oli Non solo l'acqua Quindi io vado a cercare Un contorno occhi Una crema contorno occhi nutriente Se invece Mi mancasse solo l'acqua Andrei tranquillamente con un semplicissimo Contorno occhi idratante Poi abbiamo La crema notte O la maschera notte Se ovviamente andiamo a dormire E anche qui Dipende sempre dalla vostra tipologia di pelle Una pelle Grassa Non sarà Non è adatta Ad essere combinata Con una maschera notte Troppo ricca O con una crema notte O con una crema E poi un olio Per andare a sigillare la skin care Sarà più adatta A una crema Magari Con una consistenza Un po' più Gelatinosa Un po' più leggera Che andrà sia ad idratare la pelle Ma impedirà L'eccesso di sebo Mentre una pelle secca Come la mia Con una cremina in gel Che idrata Sì Ma neanche troppo Non serve assolutamente A niente Tanto male Non metterla Sto scherzando Mettete la crema E quindi Diciamo che Anche qui Varia Però Diciamo che Gli step principali Sono Detersione Tonico Essenza Siero Contorno occhi Crema Notte O maschera notte Che cosa cambia Dal giorno alla notte Di giorno Ovviamente Non si andrà a fare La doppia detersione Perché Lo struccaggio Non ha senso Farlo al mattino Quando si ipotizza Che noi Siamo già belle Struccate Con la pelle Perpetta Il viso pulitissimo Quindi si farà Una versione Classica Al mattino E ovviamente Non si metterà Una maschera notte Una crema notte O un olio viso Per andare a sigillare La skin care Ma si metterà L'SPF Anche quello Importantissimo In più Cosa si può fare Per andare ad arricchire Ancora di più La nostra skin care L'esfoliazione È fondamentale Anche qui E anche qui Dipende Dalla vostra Tipologia Di pelle Io ho una pelle Appunto Secca Con tendenza Acneica Quindi L'esfoliazione La vado a fare Ma non più Di tre volte A settimana Perché Altrimenti Otterrei L'effetto contrario Andrei solo Ad irritare E seccare Ancora di più La pelle E la mia pelle Si sfogherebbe Attraverso I brufoletti Una pelle grassa Invece Anche se la fa Quattro volte A settimana L'esfoliazione E parlo sempre Solo di esfoliazione Chimica Mai Esfoliazione Meccanica Può Tranquillamente Avere a che fare Con Un'esfoliazione Che arriva Anche a quattro volte A settimana Se non è una pelle Sensibile Sempre Comunque Perché Appunto Non rischierà Che la sua pelle Si secchi troppo E reagisca In modo Aggressivo Causando Più Brufoletti Sempre E solo Se il prodotto È adatto Alla vostra Tipologia Di pelle Io che ho una pelle Secca Non andrò a cercare Un esfoliante Chimico Per pelli Grasse Che è decisamente Più aggressivo E quindi potrebbe Darmi L'effetto Contrario Idem Per chi ha Una pelle Grassa Non ha senso Che vada a cercare Qualcosa per una pelle Secca Che magari È più emoliente E quindi Più ricca di oli E quindi Va a creare Ulteriore sebo Cerchiamo sempre I prodotti Specifici Per la nostra Tipologia Di pelle E poi Una cosa Che io Adoro Fare Per dare Ancora Più Potenza Alla nostra Skincare Sono le maschere In tessuto Nella skincare Coreana Le maschere In tessuto Vanno fatte Tra il siero E la crema Anzi Tra il siero E il contorno occhi Siero E poi Il maschere In tessuto Wow Fantastico Cioè Loro Dicono anche Sì Fatele Tutte le volte Che vi fate La skincare Mattina Sera Tutti i giorni Non è un problema Giusto Se avessi tempo Lo farei Benissimo Anche io Mi piacerebbe Tantissimo Ma Purtroppo Il tempo Stringe E quel che è E quindi Mi ritrovo a farle Due Tre volte A settimana Queste maschere In tessuto Però Veramente Se la maschera È valida Il risultato Si vede E se la skincare È valida Il risultato Dopo un po' Si vede Chiaro è Che la skincare Non fa miracoli Però Aiuta E la cosa Ci fa sentire Bene Io sono dell'idea Che stare bene Con la nostra pelle Stare bene Con Noi stesse Che sia Fisicamente Caratterialmente Esteticamente Non ha importanza Secondo me La skincare È qualcosa Che ci fa stare Meglio Con noi stesse Perché Prenderci cura Di noi stesse Di noi stesse Ci fa stare Meglio Ed è importante Stare bene Con noi stesse Ci passeremo Tutta la vita Con noi stesse Ed è importante Che ci vogliamo bene È molto importante Che ci vogliamo bene Dopo questo Sproloquio Romantico Posso Finalmente Annunciarvi Che il video È finito Io vado appunto A fare la mia Skincare E poi Vado a letto Che sono Esausta Credo si veda Dai miei occhi Quindi Per questo Enorme Sacrificio Lasciate un like Scrivete un commentino Iscrivetevi al canale Ma soprattutto Seguitemi su Instagram Perché Approfondisco Molto Molto di più L'argomento Skincare Perché sono in fissa Ultimamente Sono in fissa Quindi Iscrivetevi Anche Su Instagram Seguitemi Anche Su Instagram Che Parliamo E chiacchieriamo Un po' Di skincare Maschera in tessuto Consigliatemi Lasciatevi Consigliare Fatemi Entrare Nella vostra vita Sto continuando A charlare a caso Basta Nella speranza Di vedervi Anche nel prossimo video Io vi mando Un grosso bacio